Due settimane al voto per le europee e al voto per le amministrative si infiamma sempre di più la campagna elettorale. Ieri abbiamo avuto un esempio, possiamo dire così, di un dibattito a distanza. Ai noi i dibattiti non ci sono. Noi al Tg della Sette abbiamo fatto il nostro invito per quanto riguarda i leader per la settimana prima del voto. Vedremo insomma come andrà a finire a Trento. Però a distanza c'è stato un confronto tra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ed Elis Lai. In tra poco andremo a vedere com'è andata, ma parleremo di tanti argomenti stamattina. Vado a presentare gli ospiti di questa prima parte. Do il buongiorno a Janina Landau per Class CNBC. Buongiorno, bentornata. Grazie. Bentornato anche a Carlo Puga, giornalista, autore TV. Andiamo nel nord-ovest perché abbiamo due candidate nella circoscrizione nord-ovest. Do il buongiorno a Isabella Tovaglieri per la Lega. Buongiorno. Grazie, buongiorno a voi. E buongiorno anche a Cecilia Strada, candidata capolista per il Partito Democratico nel nord-ovest. Buongiorno. Adesso vediamo se il collegamento audio è buono. Riproviamo. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Adesso ci sente, perfetto. Abbiamo fatto anche le prove audio direttamente in diretta. Ma andiamo ad ascoltare Giorgia Meloni, cosa ha detto ieri a Maria Latella, al Festival dell'economia di Trento. Ascoltiamo. Ora, io non sono il tipo di persona che, diciamo, riesce a ripagare con la vanità le sue rinunce, no? Le rinunce che deve fare per fare questo lavoro, non so, per ricoprire questo incarico. Attualmente la mia vita più o meno si svolge così. Io mi alzo la mattina, cerco di risolvere i problemi e quando riesco vado a dormire. Non c'è altro che non sia il poco tempo che riesco a passare con mia figlia, mediamente, diciamo, un'ora al giorno tra la mattina e la sera. Cioè qualcuno pensa veramente che io potrei fare questo avendo come unico obiettivo quello di rimanere a fare questo? Molti lo farebbero. Sì, molti lo farebbero, io non li capisco sinceramente. Ma per me quello non vale la pena. Per me vale la pena di fare questa vita se quando hai finito ti puoi guardare alle spalle, puoi guardare l'Italia e puoi dire ne valeva la pena. Quindi la mia risposta a questa domanda è o la va o la spacca, ma nessuno mi chieda di scaldare la sedia o di stare qui a sopravvivere perché in quel caso non sarei io la persona giusta per ricoprire questo incarico. Allora, abbastanza diretta. Parto da Iania Landau, Giorgia Meloni. Ieri l'argomento era la riforma del premierato, insomma, che Giorgia Meloni ha sempre considerato, diciamo, la madre di tutte le riforme per quanto riguarda questo periodo in cui lei è al governo. O la va o la spacca. Siamo con la terminologia, insomma, da campagna elettorale. Però c'è un fondo di vero e parla più ai suoi o parla all'opposizione? Sicuramente ai suoi. Va alla spacca è una frase forse molto forte che ha detto perché l'ha ancora più personalizzato il tema del premierato. Chi personalizza poi quello che alla fine non sarà una riforma, alla fine se si va, si andrà a un referendum. Ci sono degli precedenti molto, molto delicati di personaggi che hanno messo la faccia su dei referendum che non sono andati. E non è andata benissimo. Ma non è tanto nel sistema, cioè nella sostanza. È il tema che il referendum di base non piace agli italiani. Quindi andare a puntare su una soluzione che di base, già poi ne parleremo, non se gli italiani non sono scaldati nel cuore dalle elezioni europee, e figuriamoci da un referendum di questo tipo. Pertanto quella è stata una delegazione, secondo me, un pelino azzardata, un passo avanti. Perché tanto se si fa, si fa, se non si fa, non si fa. Metterci la faccia in questo modo e portandola avanti in un'orazione temporale è abbastanza importante perché ricordiamo che stiamo parlando di una cosa che per la campagna elettorale è importante perché forse è l'unico tema veramente che importa all'Europa, visto dagli europei nei confronti d'Italia che ci hanno sempre accusato di essere, a ragione, un paese dove, si diceva, le cancellerie straniere alzano il telefono e non sapevano mai di chi rispondeva dall'altra parte. Quello potrebbe dare, nell'ottica della visione della Meloni, una certa stabilità. L'unico tema veramente politico rispetto agli altri, che sono vera campagna elettorale all'interno. Però, secondo me, è stata una mossa molto azzardata. Poi ci torneremo anche su quello che è successo in Consiglio dei Ministri ieri per quanto riguarda il salva casa e per quanto riguarda quello che è successo in settimana insomma con il redditometro, lo stop and go, potremmo definirlo così, il redditometro. Però tornando proprio sulla frase, o la va o la spacca, vorrei tornare sempre su questo tema, o la va o la spacca la maggioranza, perché in qualche modo noi abbiamo sempre parlato di premierato da una parte, riforma dell'Italia federale, quella di Calderoli, dell'autonomia differenziata. Insomma, si va di comune accorta. Tant'è che c'è una sorta di, potremmo definire lo stala messicana, tra le due riforme che vanno avanti, cercando di capire quello che succede dall'altra parte e non mettendo sempre un qualche cosa in più o cambiando una virgola. Ma io credo che lei parli sicuramente alla sua maggioranza ed è esattamente come state dicendo. Mettiamo i puntini, non rompete le scatole perché poi io mi scoccio e me ne vado. se me ne vado io, siete finiti, la dico veramente in maniera brutale. Dopodiché, secondo me invece, c'è un elemento ulteriore, cioè lei è anche brava ormai a comunicare in maniera diretta al Paese. È chiaro che se tu la metti su questo piano qui, dei messaggi forti, non devi parlare di contenuti, cioè della riforma del premierato, dei problemi economici che ha il Paese, del redditometro, di una serie di cose che oggettivamente possono insinuarsi nell'elettorato, ma in senso contrario. Quando tu la metti così, Berlusconi è stato maestro in questo, l'ha sempre posta sul piano personale, avendo dietro naturalmente una potenza economica, ma anche elettorale forte, mediatica. Giorgio Menoni forse è il primo caso di politico puro che non ha alle spalle una potenza così forte che dà dei messaggi così diretti, netti e diretti. Anche più di Renzi, attenzione, anche più di Renzi, che Renzi comunque arrivava fino a un certo punto e poi comunque quando l'ha dato quel messaggio lì l'ha pagata cara, capiamoci. e quindi è interessante vedere lo sviluppo, bisognerà vedere lo sviluppo di questa cosa. E il più sviluppo ce l'avremo fra due settimane. Anche Renzi, attenzione, quando ho lavato la spacca suo, quando poi si è andato sui contenuti della riforma, anche a volte in maniera artificiosa, diciamo, sono state costruite delle opinioni contrarie, il contenuto poi conta vince sempre, secondo me, come vince l'economia, cioè tu puoi mangiare tutti i messaggi che vuoi, ma se l'economia va male, va male. Quindi, attenzione. Assolutamente. Torniamo al Festival dell'economia, ascoltiamo invece le parole, perché a distanza di due o tre ore, prima Giorgia Meloni, poi Erich Line, è intervenuta al Festival dell'economia, intervistata da Ferruccio De Borturi. Ascoltiamo. Come rispondo? Come ho già avuto occasione di risponderle più volte, devo dire, in Parlamento, cioè che se la sinistra avesse fatto tutto bene in questi anni, una come me non avrebbe mai vinto le primarie del Partito Democratico. Ma chiedo a lei, per quanto tempo, dopo 19 mesi che al governo intende scaricare sempre le responsabilità sui governi precedenti anziché assumersele. Ma io colgo anche l'altro punto e argomento che Giorgia Meloni usa sul premierato e dice Ma come? Non volete decidere voi? Allora io credo che dietro quel decidete voi ci sia un colossale decido io per voi. Perché io sono convinta che la democrazia sia una cosa più complessa rispetto alla libertà per i cittadini di andare una volta ogni cinque anni a votare per acclamare un capo che poi per quei cinque anni può fare sostanzialmente quello che vuole. La riforma che loro propongono indebolisce il Parlamento e quindi indebolisce la democrazia e allora noi abbiamo proposto vogliamo dare più peso al voto delle cittadine e i cittadini cambiamo la legge elettorale e permettiamo loro di tornare a scegliersi i propri rappresentanti direttamente. Piccola nota a margine del cambio della legge elettorale ci sarà inevitabilmente bisogno ma è uno di quei temi Carlo Buca e Iania lo sanno benissimo che torna insomma fiumecarsi ad alimentare il dibattito politico vado da Isabella Tovaglieri perché noi abbiamo insomma chiacchierato prima delle parole di Giorgia Meloni adesso torniamo a quelle di Elislein e appunto si è avuta come l'impressione che in questa settimana c'è stata poca collegialità all'interno della maggioranza vedi un po' quello che è successo sul redditometro che è stato poi derubricato diciamo a incidente e dall'altra parte diciamo invece Salvini che ha spinto in maniera molto forte sul salvacasa che è stato che è stato approvato oggi i giornali insomma sono pieni per chi volesse andare a vedere di che cosa si sta parlando insomma di quei piccoli abusi che molti italiani insomma hanno in giro in giro per l'Italia che si riesce insomma che si potrà riuscire in qualche modo a sanare che cosa vi aspettate voi dal dopo vuoto cioè nel senso che è normale che in questo momento voi per la legge proporzionale delle europee si va a cercare di alimentare quello che è il proprio elettorato e quindi in qualche modo si va in ordine sparso per poi tornare tutti quanti insieme dopo il voto io non credo che si vada in ordine sparso come si diceva giustamente ora c'è una legge proporzionale e quindi di conseguenza è evidente che ogni singolo partito cerchi di valorizzare quelle che sono le proprie sensibilità ma tutto all'interno di una maggioranza che poi di fatto deve dare l'avallo su quelle che sono le politiche portate avanti il salvacasa comunque era un tema agli atti da tempo era un decreto necessario proprio anche per dare un po' di ossigeno ad un mercato trainante come il settore immobiliare credo che fosse urgente intervenire subito perché già oggi liberare ad esempio la compravendita di una casa dalla zavorra di dover pagare 3-4 mila euro di geometra per sistemare magari una finestra che sulla carta era spostata di 20 centimetri possa dare veramente grande sollievo a quelle persone che magari appunto stanno vendendo una casa che negli anni è già stata tassata ed ipertassata io credo che poi i temi prevalenti di questo mandato siano temi anche che si intrecciano molto con l'aspetto europeo è stato citato il premierato ma è stata citata anche l'autonomia io credo che parlare di entrambe le riforme ci faccia bene anche come biglietto da visita per presentarci al cospetto dell'Europa perché ci presentiamo con delle riforme che vanno dell'ottica di dare più legittimazione al capo del governo perché viene eletto democraticamente direttamente dai cittadini ma soprattutto la riforma dell'autonomia è una forma di responsabilizzazione della classe dirigente che è quello che ci fa rendere sempre più autorevoli e credibili anche agli occhi dell'Europa perché se la classe dirigente è legittimata e ha l'autonomia per decidere dovrà renderne conto anche al momento delle elezioni dovrà regolarsi con il gradimento elettorale dei cittadini se ha lavorato bene verrà premiata se non ha lavorato bene no e quindi tutti saranno indotti a fare del loro meglio senza poi avere l'alibi dello scaricabarile come è sempre stato sinora Vado da Cecilia Strada intanto volevo fare una domanda diciamo che è una curiosità personale come si trova a fare campagna elettorale come si trova diciamo nella nuova vita da politica che effetto le ha fatto insomma entrare scendere in campo lagone insomma tutta quella retorica che viene utilizzata in questo periodo e poi le faccio la domanda come se posso dire la campagna elettorale è una cosa bellissima perché ogni giorno sono in giro e imparo qualcosa di nuovo parlo con persone nuove mi raccontano problemi e mi portano anche soluzioni perché tante volte dai cittadini all'associazione ne sto incontrando tantissime chi ogni giorno lavora e ha a che fare con i problemi dei cittadini sono loro tante volte che hanno già trovato le soluzioni da portare ai politici quindi la campagna elettorale è veramente una cosa bellissima e soprattutto c'è una grande bisogno di speranza tutti i giorni qualcuno mi dice abbiamo bisogno di speranza Schlein ci saranno una speranza tu ci saranno una speranza abbiamo bisogno di speranza e lo vediamo che abbiamo bisogno di speranza perché siamo un paese che sta continuando a impoverirsi che ha molti problemi che vanno affrontati ora su questo la vedevo storcere il naso prima quando parlava Isabella Tovalieri sull'autonomia e sul fatto che comunque in qualche modo quello che diceva Tovalieri l'autonomia in qualche modo cerca anche di responsabilizzare quelle regioni in particolar modo diciamo al centro-sud che hanno grossi problemi diciamo di bilancio non la vedevo particolarmente diciamo concorda ecco no sinceramente trovo che l'autonomia troviamo anche come partito democratico che l'autonomia differenziata sia un progetto folle che aumenterà soltanto le disuguaglianze fra regioni ecco poi quando diciamo specialmente per il sud che è in crisi per favore non trattiamo le regioni come questo governo di centro-destra spesso tratta in generale i poveri cioè se sei povero è colpa tua e ti arranci da solo perché l'autonomia differenziata aumenterà le disuguaglianze fra regioni quello che bisogna fare è mettere in mano gli amministratori locali le risorse per gestire i problemi dei cittadini ma non è l'autonomia differenziata scendere sempre nel più piccolo piccolissimo è la grande casa europea che ci consentirà di avere delle politiche di investimenti comuni e il premierato vorrei dire il premierato mi sembra veramente una preoccupazione soltanto per questo governo che evidentemente con la maggioranza spesso e volentieri traballante finiscono a smentirsi da soli in Italia e in Europa si pongono il problema del vogliamo governare in modo più solido ma il premierato uno le riforme costituzionali davvero non si possono trattare come ola va o la spacca le riforme costituzionali devono essere fatte se si decide di farle con la massima partecipazione possibile di tutto l'arco costituzionale perché altrimenti è pericoloso è sbagliato ma soprattutto vorrei dire è una propaganda spingere sul premierato e dire ai cittadini perché così avrai più potere di scelta ragazzi non è questo le cittadine e i cittadini italiani hanno bisogno del salario minimo perché abbiamo 3 milioni e mezzo di persone però mi scusi strada vorrei proprio intervenire perché vorrei tornare alla prima un secondo perché proprio tornando alla prima curiosità del fatto di come sta vivendo questa campagna elettorale lei da fuori non si poneva il tema della velocità della politica cioè del fatto che comunque in Italia ci sia un grosso problema nel prendere decisioni la rapidità delle decisioni il prendersi responsabilità ora ovviamente non sta a me prendere le parti della riforma oppure meno ma che esista un problema in questo paese di rapidità delle decisioni di assunzione di responsabilità e che quindi qualche cosa andrebbe fatta se stiamo parlando di abbiamo bisogno di decidere rapidamente perché sta venendo giù una frana e dobbiamo fare qualche cosa lì c'è bisogno di agire rapidamente attenzione adesso ho fatto forse l'esempio sbagliato perché attenzione che sulle emergenze in questo paese ci si è marciato e si è rubato fin troppo ma le riforme costituzionali la riforma dell'architettura della nostra costituzione che non è stata inventata in un pomeriggio alla o la va o la spacca per il proprio interesse che sarà disegnata per garantirci la democrazia quelle cose lì non possono essere fatte in fretta è come se fossimo una famiglia ho tre fratelli mi sveglio una mattina ho venduto la casa dei nostri genitori senza manco pensare di dirlo ai miei fratelli senza chiedere che cosa ne pensi le riforme costituzionali non si possono fare in fretta non c'è proprio un tema di dobbiamo farlo in fretta costituzione per essere attuale ha bisogno di ammodernamenti per stare al passo con i tempi e la riforma dell'autonomia mi dispiace ma la riforma dell'autonomia è assolutamente aderente ai nostri principi costituzionali e va proprio nell'ottica di dare più risorse agli amministratori locali come diceva giustamente lei che devono avere anche il potere di intervenire visto e considerato che la stessa Europa contempla come principio sacco santo il principio allora scusate un secondo perché la metafora della casa dei fratelli ha scaldato anche lo studio volevo un attimo far intervenire e chi sta vicino al problema abbia la possibilità di intervenire e ritolverlo vado in ordine di prenotazione prima Carlo Buca e poi Iadina Landau no guarda io dico solo sulla autonomia differenziata verissimo che tra l'altro più piccoli si è in questo mondo e peggio si sta nel senso che noi dovremmo allargare i confini italiani e quindi andare in Europa secondo me per essere forti questo è il grande tema di questo europeo esatto però io cito una cosa che non viene mai citata Paolo Savona che era stato indicato dalla Lega come Ministro dell'Economia nel governo Conte I si rischiò un impeachment tra Presidente della Repubblica all'epoca quindi non stiamo parlando di un pericoloso meridionalista ha scritto un report sul sud qualche anno fa spiegando come è verissimo che il nord come residuo fiscale dà tanti soldi al sud ma poi il sud restituisce in acquisto di beni e servizi cioè è verissimo che il nord paga il sud ma il sud che ne so deve comprare i gelati per dire siccome non ci sono le fabbriche di gelati le compra dal nord dal gelataglio al nord dal gelataglio al nord questo che cosa comporta secondo Paolo Savona non un pericoloso meridionalista comporta il fatto che se tu affami il sud anche il nord fallisce il 60% che sono piccole imprese piccole e medie imprese quelle del nord il 60% delle imprese lombarde diceva lui fallirebbe senza questo residuo fiscale che va al sud il 60% quindi è proprio sbagliato come dire anche per il nord è svantaggiosa questa cosa non va bene bisognerebbe un po' studiare e leggere sto citando Savona quindi sia chiaro il ministro dell'economia indicato alla Liga quindi attenzione poi andiamo in pubblicità e c'è la possibilità poi di replicare ovviamente sempre citando qualcuno per la seconda volta è entrata al campo la CEI su questo e ieri l'ha fatto con delle parole durissime nei confronti dell'autonomia differenziata al caderno e la cosa più grave e secondo me è passata molto in secondo piano è che due importanti esponenti della maggioranza hanno risposto al cartellino a Zuppi guarda caso se ne sta uscendo sotto elezioni io insomma credo che un conto è ribattere non so ormai si va a se tirare la giacchetta per le sotto elezioni magistrati ribattere in questo modo con questa stigmatizzando questa affermazione da parte della CEI secondo me è una mossa stata molto sbagliata perché difficilmente la CEI sbaglia tempistiche sicure però è anche vero che rispondere in questo modo per inciso era contraria all'autonomia differenziata permetto che riparto con Isabella Tovaglieri devo andare in pubblicità o 30 secondi adesso o meglio se parla poi dopo insomma in maniera più articolata pubblicità e poi torniamo immediatamente in diretta le 8 e 29 torniamo in diretta allora dovevo la risposta a Isabella Tovaglieri stavamo parlando di autonomia e anche delle parole da parte del Cardinal Zuppi le riassumo rapidamente parlando per l'appunto dell'autonomia differenziata in particolar modo della sanità che è il settore che secondo i Vescovi rischia maggiormente di vedere un aumento delle disuguaglianze tale rischio non può essere sottovalutato in particolare alla luce delle disuguaglianze esistenti nel campo della tutela della salute cui è dedicata larga parte delle risorse per le regioni e che suscita apprezzione per le attese dei cittadini sia per i tempi sia per le modalità per la CEI i sviluppi del sistema delle autonomie non possono non tener conto dell'effettiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale Topaliari cosa rispondiamo all'Andau e a Zuppi? Ma che innanzitutto la riforma dell'autonomia è stata più ripresa e supportata anche da governatori del centro-sinistra a dimostrazione che chi è tutti i giorni sul campo a risolvere i problemi è il primo a chiedere più autonomia e di conseguenza più risorse a patto di assumersi anche la responsabilità di questa maggiore autonomia e quindi francamente credo che questo sia solo ed esclusivamente un segnale positivo da parte di chi amministra secondariamente mi fa sorridere che si dica che la riforma dell'autonomia sarebbe penalizzante per il nord e mi sembra surreale che debba difendere io invece il sud da candidata della Lega del nord-ovest io non credo che l'obiettivo sia trasformare i cittadini del sud in consumatori dei beni prodotti dalle imprese del nord credo che chi amministra debba avere un'ambizione maggiore magari consentire visto e considerato che sino ad oggi visto che l'autonomia non c'è le disuguaglianze tra nord e sud sono solo ed esclusivamente aumentate pensare ad una forma di governo differente che porti non a fare un passo indietro a tutti ma a chi sta indietro oggi a fare un passo in avanti e portarsi solo ed esclusivamente agli stessi livelli di chi è riuscito invece già ad avere una forma di responsabilità maggiore da parte di chi amministra quindi credo che sia solo ed esclusivamente un vantaggio per i cittadini del sud che finalmente meritano una classe dirigente che si assuma le responsabilità delle scelte e concludo dicendo che questo nulla ha a che vedere con il sentimento europeista perché mi fa sorridere che appunto gli europeisti convinti inizino ad additare la riforma dell'autonomia come dei passi indietro l'Europa deve essere l'Europa sulle materie che sono di sua stretta competenza penso alla politica estera la politica migratoria la politica energetica quindi prima di sindacare se una competenza in più o meno viene data a un governatore democraticamente eletto interroghiamoci se l'Europa sia stata in grado di esserci su quelle materie dove doveva esserci perché ad oggi la risposta è no e questa con buona pace della riforma dell'autonomia possiamo in qualche modo voltare pagina e cercare di capire visto che siamo proprio in clima di campagna elettorale insomma per quanto riguarda l'Europa e riparto da Cecilia Strada una domanda che può sembrare abbastanza banale in parte ha risposto Isabella Tovaglieri su cosa deve essere l'Europa e cosa non dovrebbe essere l'Europa dal suo punto di vista dov'è che l'Europa entra troppo e dov'è che invece dovrebbe avere maggior potere? Io penso che l'Europa che dobbiamo disegnare nei prossimi anni a partire dal momento del voto è un'Europa di giustizia sociale tutto qua molto semplicemente abbiamo bisogno dell'Europa per la protezione dei diritti so che l'Europa viene anche da certe parti politiche dipinta come la matrigna cattiva che ci vuole togliere gli imballaggi delle uova di Pasqua eccetera noi dobbiamo ripartire dai diritti e dalla solidarietà europea abbiamo visto due facce dell'Europa durante la pandemia abbiamo visto la faccia bella che cerca i vaccini insieme la faccia bella che mette a disposizione i fondi per pagare le casse integrazioni e li sostegna le piccole e medie imprese abbiamo visto fino a legislatura anche la faccia brutta dell'Europa quella che approva un patto UE migrazione e asilo che il Partito Democratico non ha votato ma che non dovrebbe piacere nemmeno agli elettori di Tovaglieri e di Meloni perché non protegge infatti non l'abbiamo votato neanche noi e non genera solidarietà europea quindi quello da cui dobbiamo ripartire noi crediamo è la faccia bella dell'Europa quella che mette in comune le risorse e ci dà gli strumenti per poter superare le grandi sfide guardate l'Italia non può pensare di superare le grandi sfide che abbiamo davanti la pace la guerra il cambiamento climatico che ci costringerà a fare molto di più che non adattare le nostre case e le nostre macchine e le nostre uova di Pasqua dovremo radicalmente cambiare il modo in cui produciamo consumiamo mangiamo e viviamo come lo possiamo fare abbiamo bisogno di sostenere le famiglie italiane perché non siano le famiglie italiane a pagare il conto di magari qualcuno che ha inquinato fino all'altro ieri e che non pagherà mai il conto l'Europa ci darà questo gli strumenti e le risorse per farci uscire come famiglie italiane più felici e più ricchi dalle necessarie e inevitabili sfide ma le possiamo fare solo con una grande casa non le possiamo fare del piccolo del nostro condominio Iania Landau perché faceva accenno all'imballaggio del luogo di Pasqua che però è una di quelle filiere che in Italia è molto importante c'è un grandissimo dibattito su questo perché poi è un conto la strada che dovremmo percorrere penso appunto per quanto riguarda una maggiore conscienza ambientale e tutto il resto e poi è diciamo una politica industriale di un singolo paese a maggior ragione di un continente Io mi ricollego a quello che stava dicendo che sicuramente il tema dei diritti è un tema centrale per me e dovrebbe essere proprio alla base però occupandomi dell'economia quello che vedo è un'Europa assolutamente spaccata divisa già in Italia non abbiamo una vera e propria politica industriale non abbiamo una visione comune in Europa e purtroppo queste divisioni lo vediamo come in realtà internazionali i francesi possono fare comprare insomma in realtà italiana e quanto è difficile per gli italiani investire in Francia ad esempio quanto gioiamo del fatto che spesso l'economia tedesca non vada così bene senza pensare che poi siano a loro che noi vendiamo in nostra parte le PMI vendono parte dei loro lavori ai tedeschi purtroppo secondo me manca una vera politica industriale economica un'unione fiscale un'unione dei capitali è su quello che bisogna lavorare se bisogna ripartire con questa spero con questa nuova commissione con una visione più unitaria anche perché ci facciamo la guerra all'interno dell'Europa e a questo punto veramente vediamo pochissimi da singoli mentre ci sono realtà come la Cina come l'Unione gli Stati Uniti d'America che invece continuano a marciare con un passo completamente diverso da nostro quello che è uscito dal G7 di Alessandro Barbera oggi sulla stampa è drammatico quello che è uscito Cina-Russia G7 spaccato Europa e Stati Uniti divisi su tutte tensione sui asset di Mosca e allarme di Lagarde sull'esproprio a rischio la nostra credibilità e dubbi sul rapporto con Pechino proprio su questo perché poi è vero la forza della politica e dei singoli paesi però noi diciamo fuori dai confini europei stiamo vivendo una situazione in cui se non c'è da questo punto di vista non citando nessun partito però più Europa forse non dico che salta il banco ma quasi Assolutamente ma il problema lo vediamo in tutte le scelte che sono state fatte come abbiamo gestito il tema della Libia come abbiamo gestito il tema del Mar Rosso come stiamo gestendo adesso i dazi nei confronti della Cina dicevi giustamente te il tema degli imballaggi su cui poi queste scelte dove difficilmente poi si vedrà una rielezione Ursula von der Leyen che è caduta con una visione di un'Europa più green un mondo più green che è sacrosanto ma senza tenere conto poi di quelli che sono i sottostanti io posso vedere tutti gli obiettivi migliori del mondo ma devo capire poi se siamo pronti ad arrivarci in questo momento storico quindi quello che bisogna ripartire è sicuramente il tema dei migranti il tema dei diritti ma soprattutto un tema economico perché poi è quello che tornando al discorso di come ci stiamo impoverendo è da lì e dall'economia purtroppo o per fortuna che bisogna ripartire per dare poi sollievo all'intera Europa in particolare l'Italia e tutto questo Carlo Buca quanto c'è percezione da parte dell'elettorato che fra due settimane andrà a votare dei problemi che ci sono in questa fase vorremmo dire così fuori dallo studio di Omnibus io francamente credo che il voto d'opinione conterà pochissimo per la prima volta nella storia delle elezioni europee proprio perché non c'è percezione o meglio c'è un elettorato ormai stanco stanco di cose ripetitive credo che invece sarà molto forte il voto organizzato andranno meglio i partiti che hanno una struttura organizzata perché così ci insegna la storia più si abbassa la percentuale dei votanti più crescono i partiti che hanno un voto organizzato questo non è un bene naturalmente è una presa d'atto della realtà ma non è un bene per la democrazia ma aggiungo anche che sicuramente il nostro è un paese dove si è disamorato della politica ma soprattutto la cosa più drammatica che sono i giovani in Europa andranno a votare 23 milioni di nuovi ragazzi di cui quasi 2,8 quasi 3 milioni in Italia e sono questi che non andranno a votare perché non riescono a essere intercettati dalla politica è un altro tema parliamo di sicuramente di campagne elettorali sul territorio dicevamo come io non conosco comunque difficilmente si parla dei temi di veri propri programmi elettorali non si parla ma non conosco anche questo però esiste anche un altro problema se ti ho la tua opinione anche delle ospite in collegamento noi abbiamo è passato quasi in sordina praticamente il confronto che c'è stato abbiamo detto del confronto Schlein Meloni a distanza del confronto delle spizze candidate spero di averlo detto bene insomma dei candidati delle famiglie europee che si sono confrontati su appunto i programmi mancavano diciamo il convidato di pietra erano il candidato perché non c'è un candidato insomma dell'area conservatrice di destra di quell'area politica lì erano praticamente tutti quanti i candidati che andavano dalla famiglia popolare fino alla sinistra alla sinistra europea però voglio dire una ricetta per cambiarla questa Europa è inevitabile perché così come va non funziona assolutamente no ma infatti e questo secondo me così critichiamo pure un po' i partiti di centrosinistra diciamo questa adessione a critica all'Europa non regge più anche Cecilia Strada diciamo lo diceva insomma quindi si è capito che non si può più andare avanti così il problema è la ricetta il problema è la ricetta però sai Andrea io sono pessimista su questo punto perché se tu pensi che in tutta questa fatici caso in tutta questa campagna elettorale è un suggerimento anche alle nostre candidate avete mai sentito parlare del tema della cultura non c'è nessuno non c'è nessuno che parli di cultura non è esattamente per i vostri e tu l'Europa la costruisci anzitutto sulla cultura cioè poi possiamo discutere quale cultura come arrivarci non c'è non esiste nei programmi di nessun partito italiano europeo non se ne va però se la cultura è identificata come l'identità io penso che Isabella Dovaleri abbia qualcosa da dire su questo nel senso sull'identità che dovrebbe avere insomma il continente europeo beh sulla rivendicazione della nostra identità della nostra tradizione della nostra cultura direi che si sono spesi fiumi di parole per quanto riguarda quanto meno il nostro partito che si è sempre battuto dopodiché se vogliamo effettivamente cambiare questa Europa io credo che ci stebba a presentare il cospetto degli elettori anche con delle dichiarazioni chiare ad oggi la Lega è stato l'unico partito a dichiarare prima ancora di prendere i voti dagli elettori che se che come dire il mandato dagli elettori lo rispetterà non votando von der Leyen e io credo che comunque sia non sia non sia semplicemente un tema di politica spicciola cioè noi stiamo combattendo e boicottando tutti quei provvedimenti che non sono arrivati da Marte ma che sono stati votati e vallati da una maggioranza ben delineata che non a caso si chiama maggioranza Ursula quindi se noi veramente a turno perché mancano 14 giorni alle elezioni iniziamo a prendere le distanze da queste politiche senza dimenticare però che la Lega lo fa da 5 anni e altri sono arrivati a farlo ora per paura di perdere le elezioni secondo me è giusto anche dire agli elettori che cosa si farà nel momento dopo in cui le elezioni si saranno fatte e se la maggioranza Ursula è la responsabile dei tre quarti dei provvedimenti che noi critichiamo rinnovare il voto a Ursula secondo me è veramente poco serio e poco credibile nei confronti degli italiani infine concludo dicendo che le ricette sono anche abbastanza chiare in realtà cioè il prorogare lo stop ai motori endotermici entro il 2035 anzi a partire dal 2035 non è una banalità significa semplicemente restituire e conservare quella che è la competitività del patrimonio più importante che abbiamo che è la nostra manifattura anch'io sono d'accordo che vorrei una Europa di giustizia sociale ma per un'Europa equa noi dobbiamo prestigiare quello che è il primo strumento di autonomia di libertà di emancipazione dei cittadini che è il lavoro che ad oggi con le politiche europee di questa maggioranza miopedideologica che ha detto o green o morte senza considerare l'aspetto sociale ed economico noi abbiamo solo ed esclusivamente impoverito i cittadini italiani perché ieri Deloitte ha stimato che per realizzare la direttiva casa green in Italia servono 4 PNRR se poi ci aggiungiamo anche il costo che dovranno pagare i cittadini dal 2035 se vorranno acquistare un'auto nuova che sarà un'auto elettrica che si aggira attorno ai 40 mila euro io non credo che noi stiamo arricchendo i cittadini italiani ed europei li stiamo solo ed esclusivamente impoverendo a favore di paesi che stanno al di fuori dell'Europa e che non rispettano un mezzo standard ambientale a differenza Valieri ma in una battuta visto che ha detto il nome che non dovrebbe essere retta come commissaria europea se dovesse lei fare un nome su chi vorrebbe alla guida della commissione europea ma guardi ci sono tantissime persone spendibili non sono io nella condizione di ma non sono io Mario Draghi lo escludiamo anche perché soprattutto no perché provocatoriamente ha fatto un nome Carlo Puga Mario Draghi guardi io sono dell'idea che per ogni professione anche per fare il politico serva un'esperienza io non discuto assolutamente le qualità di Draghi ma l'esperienza Draghi ce l'ha poca poca di Draghi che è come dire sotto gli occhi e sotto la luce di tutti quindi non mi permetto di farlo però mi permetto sommessamente di dire che per ricoprire ruoli politici è meglio un profilo politico e non tecnico altrimenti siamo qui a fare le elezioni europee a chiedere alle persone di andare a votare e di darci fiducia e i primi a fare un passo indietro quando è il momento di governare sono gli stessi politici e vorrei chiedere a Cecilia Strada se piace di più Mario Draghi o Ursula von der Leyen no il nostro candidato è Nicola Schmidt quello che ci piace di più è Nicola Schmidt e questa è proprio la risposta classica da politica navigata io già glielo dico adesso proprio la dritta la cultura in realtà c'è nel programma elettorale del partito democratico a partire dall'Europa creativa salvaguardare Europa creativa ma c'è anche vorrei dire a partire dall'infanzia perché nel programma del partito democratico e noi guardate noi stiamo parlando molto invece di temi europei andando in giro noi stiamo parlando per me e per i candidati e i candidati che è vero stiamo parlando solo di temi europei per esempio stiamo dicendo quello che vuole fare il partito democratico è costruire un nuovo sistema di assistenza e supporto delle famiglie un nuovo sistema di welfare europeo con tre gambe i giovani il lavoro l'infanzia la cultura deve partire dall'infanzia perché abbiamo un tema di povertà nei bambini scolastica abitativa materiale che è molto forte mi fa un po' sorridere quando non mi fa sorridere mi fa un po' seccare quando sento parlare di lavoro da parte di partiti che saranno nella maggioranza e dicono che dobbiamo difendere il lavoro degli italiani perché non mi ha approvato il salario minimo perché così continua a rifiutarsi di fare il salario minimo che non è un ce lo chiede l'Europa l'Europa ce l'ha già chiesto anni fa è l'Italia che non si sta adeguando perché si continua a raccontare perché è il problema vero che sono i salari minimi che si abbasserebbero i salari col salario minimo non è vero dobbiamo ripartire dal lavoro sì il partito democratico vuole rendere permanente il fondo shore come sostegno permanente alla disoccupazione e poi non basta quello ovviamente molte cose le citava prima l'andà una politica industriale comune una politica fiscale comune basta paradisi fiscali in Europa non è possibile questa concorrenza fratricida una politica energetica comune ecco mettendo insieme tutto questo si va a proteggere il diritto al lavoro da nessuna parte vedo che i problemi dei cittadini li risolveremo col premierato o l'autonomia partiamo dal lavoro sì partiamo per favore dal salario minimo rapidamente un'ultima cosa da Isabella Tovalieri perché insomma la settimana è stata anche segnata da una sorta di rottura storica all'interno del mondo diciamo dei conservatori europei della famiglia a cui appartiene diciamo la Lega con la FD e quello che è successo insomma per quanto riguarda quel partito spesso si è parlato nella famiglia di Popolare possiamo andare insieme tranne la FD c'è stata questa presa di atto questa presa di posizione molto forte e non fa parte più della famiglia di identità e democrazia che è quella a cui appartiene la Lega Isabella Tovalieri conosce molto bene Gianna Gancia immagino insomma che è collega europarlamentare come lei stamattina leggo l'intervista sulla stampa sono un po' saltato dalla sedia intanto il finalmente che accompagna insomma l'uscita della FD dal gruppo di identità e democrazia alla buonora risposta per cinque anni abbiamo dovuto subire l'umilazione di rimanere in un gruppo insieme con gli eredi non rinnegati del nazismo e non nascondo di essere stata molto male per tutto questo tempo finalmente potremmo assistere a un cambio di percorso positivo spiace solo che la Lega sia arrivata a seguito della Le Pen ma la roba che ancora mi ha fatto più sobbalzare al di là di non nazisti è Roberto Vannacci cioè la domanda su Vannacci la candidatura di Roberto Vannacci all'europei ha acuito questo problema ovvero il problema diciamo dei rapporti diciamo tra la vecchia Lega e la nuova Lega è un'altra scelta non condivisa voluta da Salvini per prendere voti Vannacci resta un volto triste della nostra società che non propone nulla e non si capisce perché una persona di questo tipo debba rappresentare la Lega in tutte le circoscrizioni l'esperimento Vannacci continua Gianna Gancia ricandidata per la Lega avrà successo perché in Italia l'elettore vota il personaggio che vede su televisioni e giornali l'operazione politica è già riuscita anche se non ha nulla a che fare con la Lega ma con un partito cucito su misura su Salvini Tovalieri Se non si riconosceva in tutto questo non c'era nessun obbligo a ricandidarsi in questo partito ma al netto di questo io credo che l'offerta all'elettorato della Lega non manchi ogni circoscrizione a un elenco di 20 candidati uno è Vannacci ce ne sono altri 19 a cui noi ci proponiamo e rispetto ai quali preferirei propagandare i nostri profili piuttosto che fare pubblicità ad un personaggio esterno alla Lega che è stato candidato anche in omaggio a quello che dovrebbe essere la libertà di pensiero che noi di fatto abbiamo sempre perseguito io sono la prima a non condividere certe dichiarazioni da parte del generale però se sono coerente e mi batto per la libertà di espressione io devo battermi per la libertà di espressione anche da parte di chi dice cose che io non condivido altrimenti ci poniamo dalla parte di chi abbiamo sempre criticato diciamo un diritto di tribuna potremmo definirlo così insomma se si è liberali in questo senso bisogna esserlo sempre se no facciamo il gioco di chi abbiamo sempre criticato e di chi invece è liberale solo finché si dice quello che fa piace una domanda rapidissima da parte di Ania Landau e poi andiamo a chiedere volevo chiedere qual è la soglia a cui la Lega voi puntate per queste elezioni la seconda quanto sarà un test sulla leadership di Salvini queste elezioni europee per voi io io credo che l'obiettivo sia sicuramente quello di fare un risultato migliore rispetto a quello delle politiche che è evidente che non ci abbia soddisfatto ma un risultato migliore sarebbe a significare che il trend si è invertito e che dopo degli errori fatti si è ripartiti a bocce ferme da un punto e quindi ora si sta risalendo la china e quindi si sta imboccando la strada giusta quindi per quanto mi riguarda quello sarebbe l'obiettivo Allora io ringrazio sulla leadership di Salvini giusto ma la leadership di Salvini l'ha messa in discussione lo stesso Matteo Salvini nella misura in cui semplicemente ha annunciato che ad autunno ci saranno i congressi e ci sarà il congresso federale l'ha preannunciato lo stesso Matteo Salvini tra l'altro in occasione della presentazione del suo libro nella provincia di Varese quindi se ci sarà qualcuno che vorrà candidarsi quella sarà l'occasione e la strada giusta se nessuno voglio dire le elezioni si vincono e si perdono candidandosi altrimenti non ci si può riservare solo il diritto di criticare anche diciamo ai tempi di Berlusconi ogni tanto usciva un erede e così via ma se tu non ti candidi contro non puoi pensare che uno si faccia da parte allora io ringrazio e faccio l'imbocca al lupo per quanto riguarda l'europea Isabella Tovalieri e a Cecilia Strada grazie a voi buona giornata andiamo in pubblicità e cambiamo abbiamo altri candidati per l'europea e cambiamo anche temi tra pochissimo 8.58 rientriamo in diretta con il dibattito di Omnibus allora in studio qui con me ci sono ancora Iania Landau e Carlo Pucca abbiamo cambiato gli ospiti in collegamento abbiamo altri due candidati do il buongiorno a Paolo Damilano per Forza Italia buongiorno 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 a tutti e do il buongiorno in veste di candidato a Gaetano Pedullà mi fa molto piacere vederlo collegato insomma ex direttore della notizia adesso nella nuova veste di candidato per il Movimento 5 Stelle buongiorno e facciamo ci diamo del tu o ci diamo del lei Gaetano perché vuoi dire sempre sempre del tu ci mancheremo e allora ci daremo del lei visto che così teniamo le distanze con la politica va bene detto tutto questo perché parliamo adesso di politica e parliamo di imprese e parliamo di magistratura insomma sono stati giorni delicati l'altro ieri c'è stato l'interlocatorio fiume nei confronti di Giovanni e Toti a Genova ieri sono uscite insomma i dettagli e oggi i giornali insomma sono pieni di quelli che si sono detti Toti e le domande che i magistrati genovesi hanno fatto a Toti nei confronti dell'inchiesta della procura genovese ci riassume tutto cui chiappaventi nel suo servizio chiedevo io i finanziamenti per le campagne elettorali seduto per otto ore nella caserma del reparto operativo navale della finanza davanti a tre magistrati di lungo corso affiancato dal suo avvocato il presidente della regione Liguria Giovanni Toti mette a verbale le richieste avanzate agli imprenditori perché lei telefona ad Aldo Spinelli coindagato per corruzione nel maggio 22 chiede uno dei pubblici ministeri e la 141esima domanda alla fine saranno 167 i non ricordo sono 25 Toti in questo caso replica sicuramente stavo facendo un giro di telefonate con i finanziatori del comitato per avere finanziamenti in vista delle elezioni e poco dopo giustificando 15.000 euro ricevuti da Spinelli tutte le erogazioni sono state da me richieste conferma è questo il nodo dell'interrogatorio fiume rilasciato ieri corruzione o libere elargizioni Toti non nega di aver preso soldi ma esclude una connessione fra i finanziamenti ricevuti e le concessioni rilasciate agli imprenditori nel mio percorso politico ho sempre perseguito l'interesse pubblico ogni euro incassato ha avuto una destinazione politica ha scritto nella memoria consegnata in caserma e pubblicata da un emittente locale ancora prima che l'interrogatorio fosse ufficialmente finito una cosa mai accaduta in tanti anni di lavoro dice uno dei PM lui dice io lo facevo alla luce del sole perché ero tranquillo che ho operato nei confronti di tutti quelli che hanno chiesto un'agevolazione a portare qualcosa di utile in Liguria nello stesso modo vedete che nella memoria c'è un elenco di persone che hanno avuto questa attenzione da parte della regione e che non hanno mai contribuito in nessun modo l'avvocato di Toti ancora non ha presentato richiesta di revoca degli arresti domiciliari forse per capire quale parere potrebbe esprimere la procura che sul punto è abbottonata sarà favorevole o no valuteremo l'istanza quando sarà inoltrata e il commento è chiaro che il ritorno in libertà diventa il passaggio fondamentale per il presidente della regione per ragionare sul suo destino politico anche se l'ipotesi di dimissione al momento non sembra essere stata presa in considerazione perché Toti resta convinto di aver agito nelle regole nel nome dello sviluppo della Liguria e della libera impresa deve avergli pesato oggi non essere all'inaugurazione della posa del primo cassone della diga con politici autorità locali e imprenditori Toti è il grande assente che Salvini non dimentica ringrazio Giovanni Toti che è stato protagonista co-protagonista di un rinascimento Ligure che negli ultimi anni è stato imponente e maestoso Bucci invece non lo cita la procura probabilmente la prossima settimana convocherà il sindaco in veste di testimone come l'altro grande imprenditore del porto a Ponte prima martedì i magistrati andranno a Roma a riferire alla commissione parlamentare antimafia questo è il servizio di Guigia Paventi che è andato in onda ieri sera per il Tg dell'evento insomma che ricostruisce quella che c'è stata anche la grande novità diciamo della memoria difensiva da parte di Toti data prima a una televisione locale dove riassume e allarga e mi rivolgo a Carlo Puca un po' il discorso per dire non era il problema era Spinelli ma era il fatto che comunque da questo punto di vista diciamo ma il sistema era abbastanza molto più ampio molto più largo e allora qui potremmo aggiungere e tra poco faremo sentire anche le parole di Spinelli l'altra sera secondo me molto esemplificative del rapporto tra politica e impresa in questa fase e il finanziamento della politica stessa le parole di Spinelli a Piazza Pulita l'altra sera cos'è che ti colpisce più di tutta questa vicenda? Allora io penso che comunque vada questo sarà un caso scuola cioè farà segnerà per decenni il sistema del finanziamento ai partiti cioè il punto è capire se questo sistema è legittimo o illegittimo è chiaro che i soldi sono tutti tracciati e quindi qui non c'è come dire una mazzetta in senso stretto allora l'interpretazione di come questi soldi se e come sono stati dati quindi è un'interpretazione rispetto a una cosa quando ci fu l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti ero tra i 4-5 contrarissimi perché la mia tesi di allora che rimane quella di adesso è che se tu dai il finanziamento della politica alle imprese io non ho mai conosciuto nessun imprenditore che ti dà dei soldi senza aspettarsi qualcosa in cambio voi ne avete mai conosciuto uno io non l'ho mai conosciuto è perché ti dà diciamo dei soldi perché ci deve essere una prestazione oggettiva in cambio ma questo succede in tutte le cose della vita non soltanto per la politica oggettivamente allora è chiaro che ci stanno andando a mettere in un cul de sac allora adesso bisogna stabilire tra l'altro nella zona grigia di una legge diciamo sulle lobby che non è stata mai fatta quindi attenzione io direi diciamo poi si può discutere sul piano etico tutto quello che vogliamo ma da un punto di vista giudiziario io non lo so se questa inchiesta porterà delle condanne o meno perché veramente siamo nell'ambito dell'interpretazione quindi sono molto prudente molto prudente e comunque questa sentenza farà scuola Petulacco nel momento 5 stelle insomma l'idea è abbastanza chiara di come sono andate le cose io intanto ho stato sgomento che certa politica ha perso ogni pudore ogni vergogna quando Salvini ringrazia il presidente della regione pubblicamente un presidente agli arresti domiciliari come dire dimenticando che questo presidente è quello che voleva far ricostruire il ponte Morandi agli stessi che lo avevano fatto cadere ebbene Tom ma ce lo siamo dimenticati cosa ha fatto cosa ha fatto Toti e forse c'entrano anche i finanziamenti che riceveva rispetto a queste decisioni per fortuna si è fatto altro e oggi c'è un ponte chissà diversamente magari avremmo una delle tantissime opere incompiute la Liguria è piena tra l'altro di opere incompiute di opere che non servono a niente che vengono proposte si cercano di fare si finanziano solo perché servono alle imprese per spendere soldi e non ai cittadini per realizzare delle cose ecco io penso che al di là di ogni valutazione sulle cose che ha detto Toti ieri e su quello che decideranno i giudici sulla liceità dei finanziamenti è già condannato Toti perché un presidente di regione che va sullo yacht di un imprenditore che ha interessi con l'ente che è amministrato per prendere indicazioni ha già come dire certificato la debolezza la sconfitta della politica rispetto agli affari questa è la condanna che noi chiediamo durissima sul signor Toti e questa è la condanna che gli italiani dovrebbero chiedere riprendendo un po' forza coraggio non si va a votare c'è disinteresse ma qui la politica sta ricominciando a fare le porcherie di prima si riparla di finanziamento pubblico ma finanziamo gli ospedali finanziamo il welfare finanziamo le persone sono in una difficoltà enorme e stiamo di nuovo a proporre di dare milioni e milioni la Lega restituisse i 49 milioni che deve dare ma per la miseria ma veramente stiamo anestetizzando il cervello vogliamo credere o far credere che le cose vanno bene che non c'è bisogno più di aiutare i cittadini si chiede di riaumentare il numero dei parlamentari che il Movimento 5 Stelle è riuscito a far cadere per fortuna gli italiani non è vero che non sono d'accordo sui referendum perché sul referendum per abolire per diminuire il Parlamento hanno votato compatti non lo so se sul referendum sul premierato andranno felici e contenti ad approvare la schifezza che propone la MED però restando sul punto del finanziamento pubblico la versione pedulla politica è forte è forte nel senso che forse doveva arrivarci prima anche statospite tante volte diciamo da sempre questa è assolutamente coerenza no voglio sentire Paolo De Milano perché Paolo De Milano per chi non lo conoscesse è candidato per Forza Italia ma è anche un imprenditore insomma in Piemonte e può darci insomma l'interpretazione sia dal punto di vista appunto dell'imprenditore che quella del politico su una base che è la legge sul finanziamento dei partiti perché diciamocelo perché se no facciamo un discorso che non vale per nessuno la politica costa e su questo non ci piove fare politica comunque costa poi andare ovviamente a reperire i soldi per quanto riguarda la politica ci mancherebbe altro dovrebbe essere fatto con tutti quanti gli strumenti la licità però io torno sulle parole di Spinelli che ascolteremo della pubblicità perché secondo me rompe un po' diciamo quel tetto di cristallo per usare le parole della Meloni su un tema come questo volevo sentire la sua opinione io non sono d'accordo sul fatto che quando si fa un finanziamento a un partito di conseguenza ci si debba aspettare qualcosa in cambio perché insomma un imprenditore può fare un finanziamento a un partito a un politico perché ne condivide la linea politica non è detto che un do corrisponda sempre un des in questo senso assolutamente il sistema americano il presidente americano vive ha dei finanziamenti da parte degli imprenditori ma perché condividono una linea politica però qui sono molto rigorosi con la legge sulle lobby per l'appunto su questo però attenzione stabilito che ovviamente deve essere tutto regolare anche nel caso di Totti lui dice tutto ciò che io ho ricevuto l'ho usato poi per fini politici quindi anche sotto questo aspetto qua io sarei piuttosto cauto nel dire che ogni volta che un imprenditore dà qualcosa alla politica poi si aspetta qualcosa in cambio diversamente io ovviamente sono molto dispiaciuto da un punto di vista personale nei confronti di Totti non dimentichiamoci però guardiamo anche sempre i risultati la Liguria è stata da tempo citata come un esempio virtuoso perché il ponte Morandi comunque è stato ricostruito è stato ricostruito in tempi record rispetto a quelle che erano gli standard italiani adesso mi dispiace ma da italiano perché poi alla fine abbiamo sempre questa gara a parlare contro il nostro paese allora in questo è un momento in cui bisogna essere assolutamente garantisti c'è una magistratura che giustamente fa il suo corso deve capire se ci sono state delle irregolarità ma mi faccia fare un esempio di un settore che io conosco bene la gastronomia se noi adesso lasciassimo filtrare l'idea che perché abbiamo trovato un ristorante o due che probabilmente hanno delle irregolarità e dovessimo accomunare questo tipo di idea nei confronti di tutta la ristorazione italiana secondo me nessuno più andrebbe nei ristoranti quindi io davvero invito alla moderazione oggi si fanno già processi dicendo la colpa è di uno per usare la sua metafora per questo molta gente non va a votare è come andare al ristorante insomma in questo senso assolutamente sì ma soprattutto in periodi come questi dove ci avviciniamo comunque a delle elezioni importantissime perché le elezioni europee davvero saranno elezioni fondamentali per il futuro dell'Europa si prenderanno decisioni strategiche determinanti per il futuro nostro dei nostri figli e tutto questo bisogna che noi veramente che facciamo politica e giornalisti tutti quanti ci rendiamo ci dobbiamo rendere conto che i nostri messaggi poi devono essere messaggi che in qualche modo non vanno a minare la fiducia e la credibilità da parte dell'elettorato ecco ma questa è un'azione di responsabilità che dobbiamo sentirci tutti allora io chiedo scusogli a Daniela Landau però devo andare in pubblicità così anticipiamo i tempi e a rientro subito ascolteremo le parole in esclusiva rilasciate a Piazza Pulita da parte di Aldo Spinelli tra poco prima di finanziare Toti ha parlato con lui e gli ha chiesto determinate cose ma no ho parlato io parlo con tutti quelli che mi possono aiutare a fare questa benedetta dica il punto centrale è il nostro presidente del porto Signorini che è lui che ha portato avanti insieme ai progettisti è chiaro che deve avere l'apporto della regione ma soprattutto del sindaco Bucci perché oggi Bucci ha dei poteri straordinari che tutti questi laccioli lacciolini permessi ci vuole qui ci vuole 6 7 8 permessi quando parte la diga foranea è chiaro che è un merito loro si chiamerà la diga Toti Bucci Signorini ma non sono finanziamenti in lei ci sono tutti dichiarati cara lei se lei fa pubblicità in televisione se lei fa dei manifesti se lei va in giro a fare ed è giusto che i partiti siano aiutati perché se no come viverebbero con il loro stipendio che Bucci prende 58 mila euro all'anno e Toti non so quanto prende Signorini uguale sono cose assurde finché io mi ricordo dei tempi di Craxi di Forlanni di Prandini di questa gente lei faceva un finanziamento regolare tutto quanto e i partiti vivevano lei l'ha finanziato Toti? no non l'ho finanziato guardi è la prima volta purtroppo che non ho finanziato i partiti perché noi abbiamo un fondo con noi e quindi mi è stato proibito se ritornasse il finanziamento pubblico ai partiti lei li finanzierebbe? e no sarebbe meglio sarebbe meglio che fosse un finanziamento pubblico ai partiti da parte dello Stato perché sarebbe meglio? perché evitano di darci di noi scusi abbiamo finanziato Forza Italia abbiamo finanziato la Lega abbiamo finanziato tutti quelli che ce l'hanno chiesto ecco in sostanza noi abbiamo finanziato anche il Partito Democratico perché non mi fa questa domanda a lei quando era finanziato il Partito Democratico? quando c'è stata le elezioni sempre ha messo una fiscia su entrambi i candidati? eh sì ma lei che cosa si aspetta da questi politici nel momento in cui li finanzia come società ma aspetto che i politici gli investimenti e le tasse che noi paghiamo ritornano a fare investimenti per il benessere di tutta la Liguria lei ha dato questi contributi a nome della società e non li ha dati a nome personale questo che cosa significa perché è chiaro? significa che la società se avrà la diga foranea avrà il piano ferroviario che noi dobbiamo insistere avere diga e piano ferroviario avremo dei grandissimi benefici perché raddoppieremo i volumi di lavoro quindi mi sta dicendo che c'è una sorta di accordo ragazzi io sono un imprenditore è giusto che gli imprenditori facciano la loro parte questa è l'intervista di Giulia Garrarini collega di Piazza Pulita ripartiamo da qua detto che di Aldo Spinelli che è un imprenditore di vecchio corso ha parlato anche di Prima Repubblica si vede un po' di questo ruolo quasi da benefattore nei confronti della politica che non ha più questa disponibilità però conosce benissimo quelli che sono i meccanismi e quelli che sono i rapporti detto anche che all'interno della famiglia Spinelli c'è anche una sorta di discontinuità tra il figlio e il padre e che da questo punto di vista il figlio ha detto che non parla a nome della società che non parla ma sta parlando a titolo personale di una persona che ha 84 anni che cos'è che ti colpisce di più? quello che stavamo dicendo prima che non c'è una linea che si può tracciare da quando non c'è più il finanziamento pubblico dei partiti bisogna capire poi effettivamente qual è il limite stavamo dicendo che queste non sono cose nuove già Stiglitz che è un economista nel 1971 aveva scritto proprio un saggio tra quello che è il limite del passaggio di soldi tra Stato e impresa lo Stato deve fare il bene del cittadino ma non può prescindere dall'impresa quindi anche dal suo finanziamento ma anche dal suo supporto economico Stato inteso come politica quindi è un vecchio e questa è l'ultima parte di Spinelli quando dice se facciamo la dica forane e facciamo il bene per tutti è quello il problema però cos'è il bene per tutti? è effettivamente così io ritornerei un po' a quello che stavamo dicendo anche un po' di Toti a pioggia anche un po' a quello che diceva Gaetano da una parte secondo me non c'è niente di male che Salvini ringrazi un Toti perché ad oggi comunque non è un condannato io secondo me dividerei questa vicenda su tre piani il piano dell'indagine quella con la I maiuscola che la sta facendo i magistrati lasciamo che faccia il corso il secondo piano è quello dell'opportunità quanto è opportuno che un personaggio come Toti non solo riceva se è vero che è tracciabile ma frequenti in quelle circostanze su una barca a Monte Carlo andando alle scene quando ti dicono lascia il telefonino fuori dalla barca prima di salire insomma sono delle regole che forse d'ingaggio che io direi va bene forse vediamoci un'altra parte proprio non vediamoci proprio forse è meglio quindi c'è una questione di opportunità e un terzo secondo me il convidato di Pietro in questo momento sono i Liguri e torniamo un po' anche all'intervista di Spinelli in questo momento è una fase di stallo ma soprattutto una fase ancora di disamoramento sempre di più della politica poi ci impressioniamo che non andiamo a votare insomma secondo me bisogna appunto procedere su questi tre piani concordo su tutto c'è una cosa ulteriore che mi ha colpito veramente tantissimo è come diciamo i poli politici i centrodestri i centrodestri si invertano diciamo il ruolo di giustizialisti e garantisti a seconda di chi è se c'è un avversario o un amico allora il centrodestra in Puglia quando c'è stata la vicenda De Caro e tutto quanto centrodestra anche Forza Italia iper garantista diciamo si è messa a urlare sciogliamo il comune di Bari e così via con il centrosinistra che diceva ma che state dicendo e così via al contrario a Genova invece sta succedendo esattamente il contrario bisogna essere garantisti e il centrosinistra tutti si deve dimettere allora devo dire che i 5 stelle in questo invece sono coerenti questo bisogna riconoscere diciamo che sono non voglio dire giustizialisti ma sicuramente legalitari all'estremo ecco anche perché questo atteggiamento secondo me è un'altra cosa che allontana perché non c'è coerenza su niente non è che si è garantisti con gli amici e giustizialisti con i nemici o si è garantisti sempre o si è giustizialisti sempre non si può fare mi dispiace le persone sono disorientate oggi Cagliazza insomma l'avvocato che è candidato per Stati Uniti si trova dice appunto questo se il fatto anche degli arresti arrivati praticamente a ridosso delle elezioni e su questa cosa che in qualche modo Totti sta quasi ribaltando perché come Gaetano Pedullan insomma Totti è un altro giornalista diciamo prestato alla politica di come sta ribaltando un po' il tema e anche la narrazione nel non dimettersi e presentare quella memoria difensiva no? Per cercare in qualche modo di come ti posso dire smontare quell'automatismo che c'è anche questo farà scuola perché la prima volta che invece degli atti che escono le intercettazioni che non dovrebbero uscire neanche quelle escono lui anticipa e diventa anche questo un caso di scuola Pedullan vola rispondere a Cuga sì che ha ragione perfettamente quando parla di ipocrisia della politica che a parti invertite garantista o giustizialista secondo di chi è sulla graticola ma faccio notare che Spinelli ci dice nell'intervista ho finanziato Forza Italia la Lega il PD non ha mai detto il Movimento 5 Stelle e quindi la politica non è tutta uguale c'è una parte della politica la politica che parte dai cittadini che ha come dire che sta molto alla larga da un certo tipo di ingerenze del mondo degli affari però che danno permettimi però permettimi una cosa diciamo che i finanziamenti di Spinelli che appunto imprenditore navigato ovviamente vanno a per chi in quel momento ha il potere in mano a Genova o in Liguria insomma alla prova del governo potremmo definire così cosa che al momento negli ultimi anni praticamente non ha riguardato il Movimento giusto per chiudere vuoi sottintendere che se il Movimento avesse un ruolo di governo accetterebbe dei finanziamenti che sono vietati sono vietati dalle nostre regole perché o tutti o nessuno dal mio punto di vista comunque va bene prego per rispondere alla tua domanda ti dico che se Spinelli dice ma come fanno i poveri politici con i loro stipendi a finanziare i costi della politica con 58 mila euro come si fa all'anno ma lo dicesse un povero pensionato come fa con 400 500 800 euro al mese a campare perché il politico deve campare con quelle risorse che non sono poche e i cittadini comuni devono tirare la cinghia e aggiungere un buco ogni anno di più allora il tema è che la politica può dare deve dare anche esempi virtuosi il Movimento 5 Stelle a differenza dei partiti ha restituito 100 milioni di euro 100 milioni di euro che i parlamentari si sono hanno autodato hanno restituito e li hanno dati al fondo per il microcredito e ad attività benefiche si può fare politica anche senza i macchinoni io sto facendo una campagna elettorale in gran parte girando un collegio enorme come il Nord-Ovest con i mezzi pubblici con gli autobus i treni così vedo anche come non funzionano come dopo 30 anni di governo delle destre in Lombardia i servizi che sono sempre degradanti sulla sanità sono addirittura più terrificanti sui trasporti e mi rendo conto del perché i cittadini non votano perché quello che arriva la narrativa è che siamo tutti uguali che tanto alla fine chi ha un ruolo politico se la passa bene e i poveracci non ci pensa nessuno no dobbiamo pensare alle persone e dobbiamo pensarci partendo da una cosa io scusa se è un tema diverso ma non riesco a non dirlo dobbiamo aiutare la pace perché tutti i problemi che abbiamo il costo delle bollette il costo dei muti tutto quello che ci sta portando all'austerità dipende da una guerra che abbiamo a un'ora di volo da qui e che ci sta mettendo in condizioni di trasformare ogni investimento sullo sviluppo sulla crescita sulle imprese in investimenti sulla difesa sulle armi sui carri armati ma veramente vogliamo immaginare un'Europa del futuro fatta con i filospinati e le trincee e in una situazione di guerra è una domanda che faccio a chi ci sta ascoltando a casa votate perché con il voto date una risposta Fedolami ha dato l'assist per un'altra notizia che riguarda un'altra guerra perché stamattina il ministro degli esteri Antonio Tajani ha incontrato il primo ministro dell'autorità nazionale palestinese Mohamed Mustafa alla Farnesina e ha annunciato che riprenderanno i finanziamenti all'URNUA che è l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi dopo le polemiche che ci sono stati nei mesi passati di collusione dell'agenzia con Hamas e sono stati sospesi con i finanziamenti ha annunciato che riprenderanno a breve l'Italia metterà a disposizione un totale di 35 milioni torno da Paolo da Milano sulle parole sia di Catano Pedullà che su noi stiamo facendo questi confronti per quanto riguarda gli europei con i candidati europei questo è un tema che impatta perché poi riguarda un po' tutta quanta l'Europa quello che è i rapporti tra il finanziamento della politica e quello che sta succedendo anche in giro per l'Europa che ha impattato anche le istituzioni europee stesse vorrei tornare su questo argomento sicuramente come dicevamo prima sta impattando sta impattando in maniera negativa bisognerebbe invece spendere questo tempo che manca alle elezioni per spiegare quanto importante sia andare a votare quanto importante sia l'Europa noi ci stiamo impegnando in questi giorni proprio per raccontare le motivazioni della nostra candidatura i motivi per cui bisogna essere presenti a Bruxelles troppo spesso è successo e questo credo che siamo tutti tutti d'accordo che la burocrazia ha prevalso su quelle che invece erano decisioni che dovevano essere legate con i problemi quotidiani di tutti i giorni si è penalizzata l'agricoltura si è penalizzato tutto un sistema quello industriale penso a quello dell'automobile quindi sarà molto importante riuscire ad andare a votare e mandare comunque dei rappresentanti nostri italiani laddove non dimentichiamoci che l'80% delle leggi che passano dal Parlamento italiano sono comunque di derivazione del Europarlamento quindi le tematiche che dovremmo usare in questi giorni nei confronti dell'elettorato sono proprio quelle nell'andare a raccontare quelli che saranno i problemi da affrontare per i prossimi 5 anni è evidente che le notizie di questi giorni non fanno altro che peggiorare ulteriormente la situazione come stavamo dicendo prima quindi aumenta minano la credibilità nei confronti di tutti noi ma mi faccia dire io come lei giustamente anticipava sono un rappresentante della società civile ho partecipato alle ultime elezioni come candidato sindaco qui a Torino a Torino adesso sì adesso mi spendo per una candidatura all'Europarlamento perché veramente ho la convinzione del fatto che unire la società civile insieme a Forza Italia che comunque anche da parte di italiani allargare alla migliore espressione della società civile questo tipo di progetto politico per i prossimi 5 anni beh sia assolutamente la risposta più adatta nei confronti di un elettorato che in questo mondo deve cercare dei rappresentanti delle persone credibili e serie su cui poter contare senta in una battuta è d'accordo con quello che diceva Petullah prima sul tema della guerra che ora riassumo il pensiero di Gaetano che bisogna smetterla non bisogna dare più armi all'Ucraina e che in qualche modo bisognerà trovare diciamo un accordo in tempi brevi al netto di quello che può pensare l'Ucraina chi non può essere d'accordo sul fatto di auspicare il prima possibile la fine della guerra è ovvio io non sono d'accordo sul fatto di non poter aiutare l'Ucraina l'Ucraina comunque è un paese che è stato sovrano che è stato attaccato questo tipo di cosa non può essere ovviamente accettato e poi certo è evidente che tutti aspichiamo che la diplomazia in questo caso sia per quello che riguarda Ucraina e Russia sia per quello che riguarda Israele e Palestina possa prevalere e prima possibile si possa trovare la pace per le povere persone che ne sono coinvolte ma è evidente che tutto questo si ritorce da un punto di vista economico sull'Europa e su tutto il resto del pianeta Allora io ringrazio Paolo Damilano ringrazio Gaetano Pedullà facciolo in bocca al lupo a loro così come ho fatto prima alle altre candidate che hanno partecipato al dibattito di questa mattina per quanto riguarda le europee e ringrazio sia Carlo Puga che Janina Landau per essere stati con noi io vi ricordo l'appuntamento di domani con Omnibus a partire con il dibattito sempre a partire dalle 8 le edizioni del telegiornale alle 13.30 alle 20 e l'edizione della notte non mi resta altro che augurare a tutti quanti voi un buon sabato grazie